Benvenuti in Arca Medica, qui inizia il percorso nella nostra struttura. L'Arca Medica è il nome commerciale di Physiolab, una struttura ambulatoriale specializzata in fisiokinesi-terapia. La vision della nostra struttura è quella di essere un punto di riferimento nell'ambito della salute, integrando il percorso di prevenzione, valutazione e riabilitazione. Arca Medica nasce dall'idea di due professionisti nel 2003, negli anni è cresciuta finché nel 2012 ha acquisito un importante centro accreditato dal sistema sanitario regionale della nostra città e da allora si è continuato ad evolvere fino a diventare la struttura che è attualmente. Una struttura che è posta vicino al centro dell'Aquila, in una posizione strategica vicina anche all'uscita dell'autostrada all'Aquila Ovest e che alterna delle prestazioni di fisiokinesi-terapia sia in regime convenzionato che in regime privato. Il regime convenzionato col sistema sanitario regionale dipende dal budget concesso dalla regione e dai criteri di priorità e di gravità della patologia presentata. Il regime privato accoglie tutte le principali specializzazioni della fisiokinesi-terapia ed è convenzionato con i principali provider assicurativi, come ad esempio Allianz, Previ Medical, RBM. Nonché esistono numerose convenzioni con i principali enti locali e le principali squadre sportive della nostra città. L'Arca Medica offre numerosi servizi in ambito riabilitativo, principalmente quelli della reeducazione motoria, la reeducazione posturale ed in particolare anche la valutazione funzionale, ovvero sia l'esecuzione di test che mirano a mettere in evidenza quelle che possono essere le criticità legate alla patologia o la prevenzione. Il centro è aperto tutto l'anno, dal lunedì al venerdì. Il percorso riabilitativo può essere svolto sia da soli che insieme ad altre persone, ma è sempre cucito addosso all'esigenza del paziente. Seguitemi, vi accompagno a conoscere Arca Medica. L'Arca Medica è una struttura multiservizi che riesce a offrire un ampio ventaglio di terapie e specializzazioni nell'ambito della riabilitazione ortopedica. È una struttura che si articola in oltre 300 metri quadri di spazi, dotata sia di spazi amministrativi, servizi, spogliatoi e quant'altro, nonché di uno studio medico dedicato alle prestazioni di valutazione fisioterapica e alle valutazioni posturali individuali, ma sicuramente il fiore all'occhiello della struttura è rappresentata dall'area di chinesi-terapia, un'area articolata in delle zone open space dove vengono realizzate le terapie manuali, affiancate da numerose attrezzature per la rieducazione motoria e delle aree dedicate invece alla rieducazione proprio scettiva. Ci sono in Arca Medica set box dove vengono erogate le principali terapie strumentali, tra cui teca, ripertermia, ma il fiore all'occhiello sicuramente sono le onde d'urto della Storz, onde d'urto radiali della più nota marca tedesca specialistica in quest'area. Le onde d'urto sono un'onda meccanico sonora in grado di biostimolare i tessuti e quindi accelerare e favorire non soltanto la risoluzione del dolore, ma soprattutto i processi di guarigione. A fianco alle onde d'urte abbiamo invece un'altra peculiarità della struttura che è rappresentata da un trattamento laser innovativo denominato Hilt Therapy. L'Hilt è un particolare laser che grazie a delle potenze estremamente elevate e una tecnica di esecuzione raffinata riesce a raggiungere anche i tessuti più profondi ed avere un effetto, a seconda dei parametri utilizzati, o spiccatamente antalgico o estremamente biostimolante. Qui vediamo un atleta a correre sull'Altergy, un treadmill antricavitario sviluppato dalla NASA, è la massima espressione tecnologica nel suo campo, e un treadmill capace di diminuire fino all'80% il peso dell'utilizzatore. Questo consente una progressione del carico estremamente fine e la possibilità di proporre il recupero delle attività motorie, come ad esempio la deambulazione e la corsa, sin dalle fasi acute di qualsiasi tipo di patologia. Il Prokin è una pedana stabilometrica di ultima generazione destinata alla valutazione e alla riducazione della funzione propriocettiva. È una pedana che permette un fine controllo della direzione, dell'intensità e dell'instabilità e quindi permette di stimolare il sistema propriocettivo ai massimi livelli e soprattutto di dare un feedback continuo sia al paziente che all'operatore che lo segue. La Postural Bench è una panca computerizzata per la rieducazione posturale, è una panca che consente di misurare la forza esercitata da sei diversi distretti corporei e in questa maniera fornisce un'indicazione al paziente di come seguire al meglio gli esercizi posturali proposti dall'operatore. Qui vediamo una fase di recupero della deambulazione e successivamente della corsa fatta attraverso il sistema OptoJump Next fatto da delle barre optoelettroniche che consentono la misura di tutti i parametri del passo e della corsa e forniscono quindi indicazioni essenziali sia per lo sviluppo della performance e sia per il recupero motorio. Grazie! 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 motoria tramite biofeedback. Abbiamo visto diversi sistemi che possiamo utilizzare, ad esempio una piattaforma di forze interfacciata con un sistema di videoanalisi per lo studio delle forze scaricate al suolo e per far vedere al paziente quali errori compie non soltanto nel distretto corporeo interessato dalla patologia ma anche da distretti accessori che possono alterare la sua postura e quindi peggiorare l'esecuzione dell'esercizio. Abbiamo visto la stessa cosa fatta attraverso un sistema isonersiale chiamato GICO che misura ad esempio gli spostamenti del corpo nonché le accelerazioni dei distretti corporei e per ultimo abbiamo utilizzato un elettromiografo di superficie della BTS che ci permette di monitorare in tempo reale le attivazioni muscolari e quindi quali muscoli devono correttamente lavorare durante l'esercizio e quali invece devono essere inibiti per una corretta esecuzione. Difficile la scelta vero? Scommetto che sceglieresti solo in base al colore. Invece noi di Arca Medica non siamo solo riabilitazione, possiamo guidarti anche nella scelta della più opportuna calzatura per farti fare sport in sicurezza e in perfetta armonia. di Arca Medica 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 Grazie a tutti. La vera forza di Arca Medica siamo noi, il nostro team, tutti operatori specializzati che oltre alla normale laurea in fisioterapia hanno anche una laurea in scienze motorie triennale specialistica, molti di noi hanno un dottorato di ricerca, esperienze di insegnamento in ambito universitario con collaborazioni a contratto e soprattutto specializzati in ambito congressuale nella pubblicazione di lavori su riviste nazionali ed internazionali. Ma il nostro altro valore aggiunto è l'essere affiatati, il lavorare insieme da oltre dieci anni ed essere veramente una famiglia. La nostra professionalità si è evidenziata dalla possibilità di interagire molto spesso con atleti professionisti in molti sport, dal calcio al rugby al nuoto all'atletica leggera. Atleti che hanno avuto la fortuna di poter partecipare anche a numerose competizioni internazionali. Ecco, è quella di prima. Eh sì, no, perché quella non l'ha preso per una. Grazie. 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 Grazie.